Buongiorno a tutti, mi sentite? L'aula era stata pensata per tempi in cui i microfoni non c'erano ancora ma anche col microfono funziona un pochino meglio. Io mi presento, io sono Ermanno Malaspina, insegno lingua e letteratura latina qui a Torino e l'invitato d'onore è il professor Pier Giacomi che siede qua vicino a me e che è l'autore di questo libro che è qui, di cui ho due copie che vi posso, che posso far girare se qualcuno vuole sfogliarle, sui rapporti fra Lucrezio e Gassendi. Prima di lasciargli la parola, lui è arrivato questa mattina a Malpensa da Israele perché insegna all'Università dell'AIFA e quindi è venuto apposta, oggi si resterà qualche giorno qua a Torino per delle ricerche bibliografiche, noi lo ringraziamo di essere riuscito a incastrare tra i suoi impegni anche questo passaggio torinese. Prima di introdurre il suo argomento volevo brevemente invece introdurvi la collana dentro la quale questo libro è stato pubblicato, avete qui i libri che sono stati pubblicati fino adesso, la collana si chiama Cicero o Cicero se preferite, Studies on Roman Thought and Its Reception, quindi studi sul pensiero romano e sulla sua ricezione. Fino a una ventina d'anni fa parlare di pensiero romano era per gli storici della filosofia una contraddizione in termini perché i romani non pensano, sono i greci che pensano, i romani non hanno mai pensato, hanno fatto la guerra, hanno costruito ponti, hanno costruito un sacco di cose ma pensare, soprattutto pensare in modo filosofico non era una cosa fatta per loro. Per fortuna diciamo da una trentina quarantina d'anni, soprattutto per impulso di studiosi italiani e francesi, mi piace ricordare qui Carlos Levy tanto per fare un nome, questo trend è stato invertito e adesso ormai anche le collane di studio relative al pensiero romano si sono moltiplicate e questa che avete davanti a voi, i cui volumi sono qui presenti, è una di quelle. Questa collana che è pubblicata dall'editore De Groeter che molti di voi conoscono penso come essere uno dei principali editori scientifici mondiali con sede a Berlino ha una caratteristica in più che è quella di essere una collana sponsorizzata da una fondazione, la fondazione si chiama PLUS, PLUS è un acronimo che sta per Patrum Lumen Sustine che ha sede in Svizzera e di cui io sono il presidente. È una fondazione che nasce grazie agli investimenti di un mecenate che non sono io, ve lo dico, di un mecenate che ha deciso di destinare diciamo il suo lascito a questa fondazione e ad altre imprese consibili e ha la caratteristica di mettere a disposizione, di finanziare l'editore in maniera tale che permetta la pubblicazione del volume in open access. Cosa vuol dire per i non addetti ai lavori? Vuol dire che se voi andate sul sito di De Groeter e cercate Amicus Lucrezius come titolo potete scaricare gratuitamente il pdf del libro completo che corrisponde in tutto e per tutto al libro come lo vedete qua in cartaceo. Il libro cartaceo invece ha un costo se uno vuole, desidera ancora il cartaceo ma questo costo è esattamente la metà di quello che sarebbe il prezzo di copertina, il prezzo più che di copertina diciamo il prezzo reale del costo del libro, questo sempre grazie all'aiuto della fondazione. Questo nello scopo di facilitare il commercio librario, la circolazione libraria anche perché di solito questi libri scientifici che hanno un numero di copie molto basse, non dico i numeri di copie per pudore ma sono veramente numeri molto bassi, hanno come potete immaginare un costo per copia che è estremamente alto, questo perché ovviamente non fanno le copie di Harry Potter ma ne fanno infinitamente di meno e quindi l'editore deve guadagnarci in questo modo e quindi alla fine gli unici che possono comprare questi libri tranne quelli di questa collezione che costano la metà sono di fatto le biblioteche che comprano una coppia che poi deve servire diciamo per tutti gli studiosi di una sede. Noi abbiamo cercato in qualche modo con questa collana di invertire il trend e di permettere a tutti intanto di scaricare il libro cosa che presso molti editori non è possibile se non a pagamento, spesso il pdf o l'ebook ha lo stesso prezzo del libro cartaceo, quindi 100-200 euro per un pdf. In questo caso invece ripeto il libro è gratuito. Arriviamo adesso dopo questa introduzione, io poi quando il professor Pier Giacomi si metterà a parlare vi passerò queste due copie con preghiera di riportarmele alla fine se qualcuno di voi vuole sfogliare il libro e gli cedo la parola non prima di aver introdotto brevemente conosco Enrico ormai da molti anni da una conferenza a Roma prima del covid tanto per parlare di ere geologiche e uno dei migliori prodotti della scuola di storia della filosofia antica di Roma, professor Spinelli e poi professor Verde ha lavorato in molte sedi e come vi dicevo da qualche tempo è l'equivalente di un quello che nel gergo italiano si chiama RTDB diciamo di un ricercatore, professore assistente alla Technion University di Haifa in Israele. Si occupa di storia della filosofia antica e di storia della filosofia moderna. Questo libro essendo appunto su Epicuro, Lucrezio e Gassendi mette insieme gli interessi e le competenze del professor Pier Giacomi perché getta un ponte fra la filosofia antica tra il pensiero romano, per quello che questo libro è pubblicato in questa collana, tra il pensiero romano e il pensiero moderno e si occupa di un tema molto interessante. Lo dico per me che avevo appena appena letto Gassendi al liceo e quindi lo conoscevo molto poco ma leggendo riguardando pagina per pagina il libro come lui sa bene per la pubblicazione sicuramente è molto più quello che ho appreso io leggendo il libro di quello che posso avergli dato io come consigli per migliorare la forma finale del libro. Non voglio dire di più il tema è interessante anche molto moderno abbiamo scelto questo titolo un po' accattivante il diavolo e l'acqua santa proprio perché Gassendi si dice cristiano, Lucrezio e l'epicureismo è rappresentato di solito come il contrario, la negazione del pensiero cristiano, Gassendi è uno di quelli che invece cerca di metterli insieme almeno secondo una parte della critica, secondo altri invece si tratterebbe semplicemente di una copertura per diciamo motivi per evitare critiche da parte dell'istituzione ecclesiastica, Pier Giacomi è fra quelli che ritengono invece che questo discorso non sia superficiale, solo una facciata ma che sia al centro del pensiero di Gassendi. Gli lascio la parola e lo ringrazio di essere qua insieme con noi. Grazie, mi si sente? Sì, intanto grazie perché è stato difficoltoso incastrarsi ma è stato molto piacevole perché questo io sono il tipo di persona che non distingue la dimensione scientifica dalla dimensione personale quindi dico anche che questa opportunità di lavorare a questo tema della ricezione di Lucrezio in questo filosofo Gassendi che è a cavallo tra la fine del XVI secolo e la piena metà del XVII secolo è un tema che senza il sostegno della SIA, dell'Associazione Italia Fenice e anche di tutte le istituzioni che ha nominato, De Groeter, Plus e via dicendo, non avrei potuto lavorare a questo tema che in realtà è stato non solo un accrescimento scientifico ma perché ha innescato una virtuosa catena delle cause perché io poi ho potuto lavorare dopo questo tema a Villa Itatti, un centro che sta a Firenze, su una prosecuzione. Mi piacerebbe dire qualcosa durante la presentazione non soltanto del libro quindi non parlerò solo di quello che c'è nel libro ma anche quello che non c'è nel libro per dire che è un prodotto che è uno step di una cosa che è ancora in corso. In questo centro però ho incontrato quella che poi è diventata mia moglie e mi ha dato anche la possibilità di avere un ulteriore avanzamento nel percorso che poi mi ha portato ad avere questa posizione in Israele quindi appunto non è piageria dico grazie che per le opportunità e anche chi lo sa se è involontaria se è il caso o se è qualcos'altro però questo lo lasciamo sospeso. Allora come dicevo io vorrei anche approfittare della presentazione per dire anche quello che non c'è nel libro e vorrei proprio iniziare su una cosa che non c'è che è una testimonianza a proposito dell'attività di Gassandì questo appunto filosofo che metto tra le virgolette il cristiano e poi dirò qualcosa in merito al perché secondo me può essere effettivamente considerato cristiano ma non ci sono non c'è un accordo tra gli studi in merito e di una testimonianza di un suo discepolo che subito dopo la morte di Gassandì si chiama Francois Bernier visto che lui ha scritto praticamente solo in latino e in un'epoca in cui comunque si iniziava anzi si intensificava forse è meglio si intensificava la attività scientifica e filosofica ma anche letteraria non più soltanto in latino ma anche nelle lingue quelle che noi considereremo moderne l'inglese il francese quindi Gassandì scrivendo solo in latino ovviamente era un autore che poteva essere letto non da tutti e questo Francois Bernier traduce la sua opera principale che si chiama il sintagma filosoficum è stato pubblicato postumo lui muore nel 1655 questo viene pubblicato quest'opera massima che dirò qualcosa di meglio in seguito è in due volumi occupa due volumi dell'opera omnia di Gassandì che è in sei volumi e lui fa una traduzione francese ma anche una sintesi di quest'opera e questo sarà importante perché sarà utile per succedere qualcosa sì perché volevo appunto in questo in questo insomma questo discepolo traduce l'opera di Gassandì in francese ne fa una sintesi ed ha anche una sua breve vita bene purtroppo come uno non dovrebbe forse sotto certi aspetti pubblicare mai perché poi uno continua a studiare continua a leggere scopre delle cose che gli potevano tornare utile questa era la testimonianza perfetta che andava a corroborare una delle mie tesi principali del libro e vi leggo appunto il passo che devo visto che ho perso il foglio purtroppo devo andarlo a recuperare dal computer non è una cosa elegantissima e questa questa vita è allora l'opera in francese ma questa la vita è la prima parte della della sintesi di Bernier dell'opera di Gassandì è stata tradotta in italiano e quindi adesso non mi ricordo le specifiche ma per chi è interessato dopo le posso facilmente recuperare ad ogni modo vi leggo questo estratto della vita di Gassandì da appunto il suo discepolo non vi era libro di scienza o di letteratura che non avesse letto che non ricordasse e da cui non avesse raccolto i passi più belli che ha saputo riversare con gusto in tutte le proprie opere la quantità prodigiosa diversi greci latini e francesi che aveva scelto in tutti i poeti ha preso a memoria è degna di nota soltanto di latini e questa è la frase importante soltanto di latini senza contare l'intero lucrezio ne sapeva 6.000 300 dei quali recitava ogni giorno passeggiando o facendo altro come per rilassare la mente la memoria diceva è come ogni altra abitudine se volete rafforzarla o impedire che si indebolisca come succede di norma quando si invecchia esercitatela in continuazione e di buon'ora i bei versi imparati a memoria e recitati spesso mantengono la mente elevata e ispirano grandi sentimenti e nobilitano lo stile di criscrive ma questo si ha detto anpassant ora metto via questa è l'unica cosa mi chiedo vi chiedo veramente scusa se non è elegante leggere una cosa dal computer ma non era una testimonianza secondo me molto interessante per due ragioni chiaramente una testimonianza molto esagerata ad esempio dopo quando dopo aver detto questa sua attitudine a ricordare tutto e a citare interi i poemi a memoria dice anche che lui dormiva sostanzialmente cinque ore al giorno e lavorava per 14 ore consecutive e ogni tanto però il suo disturbo veniva invitato veniva interrotto dagli amici che gli chiedevano delle cose chiaramente è una biografia molto esagerata però il dettaglio del che lui conosceva l'intero lucrezio e quindi questo poeta che per chi non lo sapesse magari preferisco dire l'ovvio chiedo scusa a chi già lo sa è un poeta vissuto nella piena metà del primo secolo avanti cristo in questo caso quindi parliamo di ben 17 secoli prima in cui gassandia lavorato ed è un poeta e un filosofo che nella cosiddetto poema dererum natura o sulla natura delle cose espone in versi la filosofia di epicuro che invece era nel quarto o terzo secolo avanti cristo anche se a cavallo e quindi per tornare anche alla cosa che dicevi tu all'inizio che come dire lucrezio in quanto latino sembra quasi traducendo epicuro non è un filosofo in senso proprio si potrebbe dire ma è uno che è un bravo divulgatore della filosofia di epicuro questa idea di un epicuro di un lucrezio come un semplice traduttore di epicuro oggi è acclarato che è una cosa che va moltissimo ridimensionata credo che chiara rover una collega sempre allieva sta pubblicando proprio un libro sulla stessa collana sulla teoria della conoscenza e lucrezio evidenziando quanto lucrezio era un pensatore non soltanto un divulgatore però in quest'epoca invece siamo ancora nell'idea in cui lucrezio è balletto va apprezzato perché noi possiamo risalire a quello che era il pensiero di epicuro che all'epoca aveva pochissimi testi che potevamo accedere abbiamo i tre le tre epistole delle pubblicate diciamo così in appendice al decimo libro di di oggi nella erzio che è un storico della filosofia possiamo semplificare dicendo così che scrive dieci vite dei filosofi la decima è dedicata a epicuro e lui ha avuto a posteriore una idea brillante perché noi possiamo leggere queste tre epistole erodoto sulla fisica pitocle sulla meteorologia o sulle fenomeni celesti e menecio sull'etica senza questo non potremmo leggerlo e qualche sentenza ma prevalentemente abbiamo testimonianze indirette di autori come cicerone o plutarco spesso avversi a epicuro quindi all'epoca leggere lucrezio era considerato il modo per accedere alla conoscenza di epicuro perché non c'era sostanzialmente molto altro oggi abbiamo la possibilità il lusso di leggere i papiri di ercolano che sono conservati nel centro dei papiri ercolanesi fondate da marcello gigante e in cui leggiamo il vero epicuro o anche di epicurei di cui all'epoca erano soltanto dei nomi demetro lacone che magari figura in sesto empirico e pochi altri autori mentre adesso possiamo leggere le opere ecco quindi ritornando alla testimonianza di gas andy e adesso muovendosi un pochino a quello che ho cercato di fare con il libro che cosa significa leggere tutto lucrezio l'intero lucrezio se noi ci limitiamo alla testimonianza che abbiamo letto in bernier tutto sommato l'occupazione di leggere lucrezio era una cosa un allenamento della mente cioè si leggono si leggono i poeti e li si recitano a memoria per aiutare la memorizzazione però in realtà se uno va a leggere le opere di gas andy e in particolare quest'opera il sintagma filosoficum appunto la sua summa di tutto il pensiero in realtà non solo ci viene confermato che è molto probabile se non sicuro che lucrezio fosse stato letto interamente da gas andy e io nella fine del libro raccolgo anche le citazioni proprio dando anche riferimenti di pagina ho fatto una percentuale viene citato se adesso non ricordo male sull'85 per cento del poema che è un unicum nella tradizione se adesso viene viene molto più uno studioso di lucrezio anche lì potrebbe magari citarlo tutto o addirittura più dell'85 per cento ma all'epoca se non si era uno che stampava il testo di lucrezio e ne faceva un commentario le citazioni erano molto sporadiche parliamo veramente di una manciata diversi se non addirittura qualche 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 parola e l'unico comparabile un pochino avvicinabile a gas andy può essere montegne il quale anche lui cita moltissimo lucrezio ma non l'85 per cento quindi ecco la testimonianza di bernier è corretta per dire il dato leggeva l'intero lucrezio ma non ci dice perché leggeva l'intero lucrezio e questa è sostanzialmente la seconda parte tesi principale del libro la prima è quella che appunto accennato mostrare che gas andy è il primo ad essere un conoscitore profondo e minuzioso dell'opera di lucrezio ma anche mostrare che la lettura non era una lettura solo erudita per esempio oggi magari a meno che non c'è uno storico della filosofia che legge lucrezio per altri fini il fine è conoscere che cosa diceva lucrezio e quindi tutto sommato senza svinuire la nostra professione l'attività era prevalentemente erudita magari a un portato didattico molto forte posso anche usare lucrezio per valorizzare la cultura classica ma ecco non è che adesso io leggo lucrezio per se almeno se procedo in ottica scientifica per usare lucrezio non lo so come campione della democrazia o qualcosa del genere mentre all'epoca leggere lucrezio era poteva avere un fine non soltanto scientifico non soltanto erudito e qui appunto si pone il tema dell'intervento e della presentazione ci sono due modi di poter pensare leggere lucrezio la prima è che per ripeto chiedo scusa per chi lo sa se ripeto qualcosa di ovvio lucrezio espone la filosofia di epicuro e che cosa espone la filosofia di epicuro molto in sintesi i tre capisaldi fondamentali della filosofia epicurea possiamo ridurla a tre grandi enunciati il primo che la filosofia va ridotta allo studio della fisica e della teoria della conoscenza come qualcosa di strumentale alla felicità e la felicità nel caso di epicuro coincide con il piacere non è chiaramente il piacere del vado mi prendo quintali di eroina e guido a 200 all'ora che quello è un piacere però non è questo piacere in cui si parla di epicuro perché il piacere di epicuro è invece la detrazione del dolore quindi rimuovere il dolore dal corpo e il dolore dalla mente o dall'anima coincide con il massimo stato di piacere o il massimo stato di tranquillità e lo studio della natura o della fisica coincide con questa possiamo dire ottica strumentale si conosce la realtà perché noi vogliamo trovare i mezzi per vivere felici facciamo un esempio io ho bisogno per vivere felice di controllare i miei desideri per controllare i miei desideri devo capire quali desideri scegliere e quali desideri scegliere massimizzano il mio piacere o la rimozione del dolore e questo uno lo sa studiando la natura umana da vicino oppure un altro esempio e qui veniamo a una seconda il secondo enunciato importante della filosofia epicurea di rimuovere le false opinioni che ci rendono inquieti e quindi ci rendono infelici perché ci procurano del dolore e una di queste principali le due principali paure sono la paura della morte e la paura degli dei e quindi il secondo enunciato nella prospettiva epicurea è mostrare che gli dei esistono e parliamo anche all'epoca c'era il politeismo e quindi gli epicurei erano politeisti però e questo è un unicum nella tradizione forse magari c'è qualcosa di avvicinabile al deismo in età moderna ma anche lì si pensa che il dio crea e poi lascia che tutto prosegua ma intanto crea invece nell'epicureismo non c'è quest'altra dimensione gli dei esistono ma non si occupano degli esseri umani da qui potrei parlare a lungo sul che questo non è ateismo ma diciamo che è molto vicino all'ateismo o sotto certi aspetti dire per qualcuno dire che gli dei esistono ma non si occupano di noi non è troppo diverso dal dire dio non esiste secondo me no ma questo sarebbe l'oggetto di un altro intervento quindi questo è il secondo enunciato terzo enunciato molto importante nella filosofia epicurea quindi pensare la fisica la teoria della conoscenza come strumentale alla felicità pensare a rimuovere gli dei e ammettere che gli dei non si occupano di noi il terzo enunciato è la valorizzazione dell'amicizia e della cooperazione tra gli uomini anch'esso l'idea così dire della virtù come strumentale alla felicità io perché cerco degli amici perché sono virtuoso sono giusto sono coraggioso sono prudente perché io intendo la vita morale come un tramite per raggiungere questo piacere per fare un esempio se io sono uno che si temperante e evita di fare delle scelte sbagliate o di crearsi dei nemici questo massimizza il mio piacere perché intanto sono tranquillo e non sono in uno stato di inquietudine ma anche avrò degli amici delle persone che mi aiuteranno e questo aumenterà ancora la mia sicurezza e quindi il mio piacere ora queste tre tesi che adesso dette così forse anche risuonano con la nostra idea contemporanea ma all'epoca difendere una o tutta di queste tre tesi poteva essere estremamente pericoloso ma soprattutto la seconda perché se uno ammette che il fine è il piacere c'è la critica che il piacere uno non può ridurre la vita al piacere che cosa c'è qualcosa di più importante del piacere c'è la virtù c'è la conoscenza come si fa a ridurre a questo e questa è un'ottica una critica che si trova anche in cicerone soprattutto anche l'idea del e qui anche se poi questo si potrebbe aprire un altro capitolo su la visione politica dell'epicureismo ma diciamo che da questo punto di vista l'epicureo si ritrae dalla vita e questo un romano non lo può accettare quindi è pericolosa perché rischia di portare all'inattivismo e a una vita pigra secondo il tesi ancora più pericolosa negare che gli dei esistono e altro dettaglio che ho dimenticato ma è importantissimo nell'atomismo c'è anche l'idea che tutto inclusi gli dei sono fatti di atomi e vuoto e quindi anche la nostra anima dopo che la nostra anima dopo che noi moriamo l'anima non c'è più così come non ci sarà più il corpo quindi non c'è neanche la vita dopo la morte quindi unire non esistono gli dei e quindi non esiste la provvidenza e negare l'immortalità dell'anima e quindi anche la retribuzione che gli dei ci daranno dopo morti questa è ancora più pericolosa terza ipotesi l'idea di terza tesi pericolosa ridurre alla virtù come uno strumento del piacere è anch'essa pericolosa perché come puoi svilire la giustizia o l'amicizia come un tramite per il piacere è ecco queste vedete adesso io ho cercato di sintetizzare all'osso quindi ecco ci sono due modi di un autore che legge tutto questo in epicuro barra lucrezio perché lo fa e ci sono diciamo così due grandi vie poi ci sono anche le sfumature ma ci sono due vie uno recuperare in toto questa queste prospettive che vi ho detto e quindi in questo si è un epicureo in senso nel senso forte della parola seconda via e questa è secondo me la via che ha scelto gassandì nella sua attività di filosofo ma anche di e questo sarà il punto importante anche di prelato perché gassandì era prelato della della congrega della chiesa di digne le benne che sta in provenza e di leggere gli aspetti positivi di queste teorie e neutralizzare gli effetti pericolosi per esempio e qui veniamo a uno degli aspetti che cerco di studiare nel libro usare l'atomismo e quindi questa la fisica epicurea che riduce tutto quanto ad atomi e vuoto ma anche di cui si può dare una visione scientifica della realtà quindi non come usare le idee di platone che a meno che uno non è platonico dice che cosa spiega l'idea di platone su come è fatto il cavallo perché il cavallo agisce è molto difficile ricavare una scienza da questa prospettiva mentre dall'atomismo usando soprattutto l'apparato empirico di osservazione di studio anche di come è fatta l'anatomia la composizione materiale via dicendo riesce a spiegare tutto questo se uno usa questa idea dell'atomo e depura la componente pericolosa di questa prospettiva cioè questa componente atea che se esistono gli atomi e il vuoto e gli atomi non hanno bisogno di un dio per organizzarsi è un problema ma se uno pensa che dio esista e non sia inattivo come quelli di epicuro e governi invece gli atomi e il vuoto di colpo questa prospettiva che all'inizio sembrava totalmente inconciliabile con una visione religiosa può diventare adattabile a queste credenze ecco io nella seconda la seconda via ma questo non perché è un'idea che mi piace io sono anche agnostico quindi non ho neanche una motivazione mettiamola così esistenziale di voler leggere in gas andy quest'autore ma perché testi alla mano e questa è una lezione anche di metodo sulla cosa non uno quando lavora sui testi è quasi magari tu non sei d'accordo però c'è quasi una sorta di atteggiamento mistico verso i testi cioè non so non devi essere tu a parlare usando i testi ma sono i testi a parlare attraverso di te quindi in un qualche modo si facilita i testi vanno sapore vanno ascoltati bisogna calarli nel contesto storico nel piano di lavoro di un autore e tutto questo quindi l'autore deve depurarsi dalle proprie credenze e lasciare parlare i testi e che cosa fanno parlare i testi in proprio nel lavoro di gas andy appunto intanto è la cosa che diceva anche bernier ma questo appunto è confermato dati alla mano intanto leggeva tutto lucrezio e nel leggere tutto lucrezio lo cita nei punti importanti per costruire una teoria positiva prevalentemente adesso questo non ho fatto una statistica ma prevalentemente lucrezio veniva usato per come autore positivo per dire qualcosa sulla realtà ad esempio vogliamo spiegare come funziona il movimento lucrezio viene citato per spiegare la dinamica del movimento vogliamo spiegare com'è il sonno oppure come è divisa l'anima lucrezio veniva usato per spiegare questo quindi come dire non è un uso solo erudito perché per gas andy lucrezio o epicuro non dimenticate questo aspetto perché quando io parlo di lucrezio nel caso di gas andy ritiene come appunto un'intera tradizione che lucrezio espone il pensiero di epicuro questo oggi crea dei problemi perché sappiamo che già l'atto stesso di tradurre dal greco al latino e parliamo di un caso minimo già soltanto questo come si fa a essere sicuri che quello che trasmette ci può essere stato qualcosa lost in translation per dire così ma c'è anche l'idea che lucrezio possa essere anche avere delle motivazioni di creare una sua idea di filosofia e usare lucrezio scusate usare epicuro come fonte di ispirazione ma nel caso di gas andy questa questo problema non si pone però ecco se uno va a vedere i testi laddove viene citato lucrezio è per lo più nelle in carattere positivo e laddove invece lucrezio rischia di essere pericoloso e quindi appunto per dire nel dire il tipo c'è un aspetto diabolico di lucrezio lucrezio negatore dell'immortalità dell'anima lucrezio che respinge la provvidenza lì gas andy potremmo così dire dismette i panni del filosofo dismette i panni del filo del filosofo quindi del filologo che capisce usando non soltanto lucrezio anche tutta su questo non ne posso parlare oggi ma è incredibile il modo in cui lui riesce a lavorare a dominare le fonti che oggi abbiamo sussidi come gli epicurea di usenere che è una raccolta dei testi e delle testimonianze di epicuro e che raccoglie più o meno tutte le testimonianze e uno c'ha anche il numero contrassegnato a tutto mettiamola così in 800 pagine che sono tantine ma intanto ce le ha all'epoca non c'era e lui invece usando lucrezio e altre testimonianze aveva un dominio totale delle fonti che oggi forse veramente fa impressione però in altri punti invece dove c'è questa abbandona l'aspetto filologico e quindi cercare di capire cosa dice lucrezio barra epicuro abbandona i panni filosofici quindi non cerca di usare più lucrezio come un autore per spiegare la natura quando indossa i panni del cosiddetto teologo invece il dissenso c'è ed è molto forte ad esempio questa e adesso vengo anche invece all'altra lettura di gassandi e penso di andare anche alla conclusione perché quanto tempo mi rimane una decina di minuti spero comunque se poi alcuni punti non sono chiari io non sto andando capitolo per capitolo perché mi sembra un po' inerte penso mi piace più parlare della delle cose più importanti poi se durante la discussione ci sono dei punti di principale di discussione sono a vostra disposizione ecco ad esempio nella nel sintagma filosoficum come nell'epicureismo la filosofia è divisa in tre parti come avevo in parte accennato all'inizio la teoria della conoscenza la fisica e l'etica così è suddiviso anche il sintagma filosoficum di gassandi abbiamo dei libri dedicati perché il sintagma filosoficum è fatto in più libri interni abbiamo dei libri dedicati alla teoria della conoscenza dei libri dedicati alla fisica e dei libri dedicati all'etica bene l'ultimo della della fisica e quindi è quello che marca la transizione dalla fisica all'etica è dedicato all'immortalità dell'anima e alla dimostrazione che dopo la morte si avrà se si è stato virtuoso se si è stati cristiani si vivrà nel nel pieno benessere nel pieno piacere del paradiso e in questo capitolo c'è un corpo a corpo c'è quasi il film western che lucrezio a sinistra e la gassandi dall'altra che gassandi cita le prove di lucrezio contro l'immortalità dell'anima e quindi una delle prove anche indirettamente della provvidenza e dice questa è proprio una prova 1 lucrezio dice questo ma è sbagliato per questo motivo prova 2 lucrezio dice questo ma è sbagliato per questo motivo qui non c'è più soltanto l'esigenza filologica c'è un'esigenza invece di appunto il diavolo cospargerlo di acqua santa cioè come a dire tu sei un grandissimo filosofo sei un grandissimo poeta ma qui non ti posso seguire se volessimo usare una metafora tratta da dante c'è un certo punto dante che deve abbandonare virgilio è stata una guida potentissima su alcune cose ma poi non la può più seguire ci deve essere beatrice a prendere il posto e secondo l'interpretazione che non sposo solo io ma anche altri studiosi ma in questo libro cerco di difendere con dati alla mano c'è invece questo tentativo di ecco in termini tecnici potrebbe dire un'interpretazione dialettica di lucrezio nella dialettica c'è l'idea che prendendo una tesi la si esanima si vedono anche si separano i lati positivi da quelli negativi e da questa analisi emerge una sintesi di questo pensiero che trascura gli elementi negativi e valorizza solo quelli positivi secondo me è quello che ha fatto gas andy nella sua opera questa però è solo una delle interpretazioni e qui vengo alla conclusione accennando anche invece finora ho parlato soprattutto della fisica dirò qualcosa anche sull'etica ma ho preferito lasciarlo per ultimo perché secondo me è legato molto anche a un'obiezione secondo me la centrale a quest'altra lettura di gas andy tenete presente che all'epoca nel diciassettesimo secolo ma anche prima non è come oggi che magari uno e anche lì magari ci possono essere delle eccezioni faccio un'analogia molto pericolosa spero che di non sbagliarla pensate al politicamente corretto oggi una persona che dice qualcosa di politicamente scorretto rischia di avere delle delle dei quantomeno dei dei problemi se non anche magari licenziamenti o peggio e quindi una persona oggi di front prima di dire una cosa anche se la pensa veramente ci pensa due volte all'epoca mutati smutandi se chiaramente c'era qualcosa di analogo per quel che riguarda la l'espressione del pensiero e quindi anche la lettura di certi autori io potrei ad esempio dire leggo lucrezio e credo nell'immorale nella mortalità dell'anima o che non ci sia una provvidenza però me ne guardo bene dal dirlo e quindi secondo una lettura che soprattutto il capo stiti un po di tutto questo è lio strauss a proposito anche della lettura di lucrezio ma in realtà lui lio strauss parte soprattutto dalla lettura degli autori come spinoza quindi anche della calcio in tutta una serie quindi come dire nasce come un paradigma che poi si applica un oggetto un po estraneo comunque come a dire un la seconda lettura può essere questa gassandì in realtà non era cristiano era un ateo e il fatto che legga l'intero lucrezio per tornare alla testimonianza di bernier lo prova e quindi se uno non crede non si legge tutto lucrezio se non gli piace tutto quello che dice lucrezio però se ne guarda bene dal dire credo che l'anima sia mortale e quindi usa tutta quella armatura concettuale ad esempio il capitolo in cui confuta le prove di lucrezio contro la mortalità dell'anima dicendo beh così mi sono mi sono difeso poi ci saranno i lettori più intelligenti quelli che non ultimo sanno il latino e loro capiranno qual è il mio vero pensiero che è nascosto tra le righe quindi come a dire la seconda lettura che emerge dall'eostraus ma anche ci sono autori soprattutto a un'interpretazione soprattutto francese anche se adesso sta tornando in italia anche magari con che non sto dicendo che non sia una tesi non sostenibile però c'è un problema in questa tesi che è un po' un cortocircuito mentre io nel mio metodo di lavorare come dicevo prima faccio parlare i testi e quindi in un qualche modo come dire dismetto le mie convinzioni e cerco di leggere di far parlare i testi il più possibile qui il metodo è l'opposto c'è già la tesi che uno crede cioè dice parte dall'idea che all'epoca difendere epicuro voleva dire rischiare rischiare grosso gassandi legge tutto epicuro legge tutto lucrezio non può non essere ateo e dunque devo credere che l'idea il testo mente e il testo non parla da solo il testo è quindi è molto anche difficile confutare questa obiezione perché se io dico è ma leggi il testo dice sì ma il testo mente allora dico sì ma il testo mente però poi ci sono dei punti non è adesso non sto cercando di ridurre questa seconda interpretazione una macchietta perché ci sono anche dei 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 problemi nella mia lettura che invece vengono valorizzati nella seconda ad esempio faccio un esempio che a proposito della fisica a gassandi e una delle cose che respinge dell'atomismo è che esistano più mondi perché perché se esistessero più mondi le scritture ci dicono che esiste un mondo solo e dio l'ha creato in vista nostra se esistessero infiniti mondi come come si fa allora dire allora o le scritture mentono o non esistono gli infiniti mondi e gassandi e questo è un uno degli argomenti che viene usata dalla lettura opposta non è che dice non esistono infiniti mondi punto lui dice è possibile che esistano perché se noi accettiamo gli atomi e il vuoto e accettiamo l'onnipotenza di dio è possibile che crei più mondi o anzi più infiniti mondi perché se gli atomi sono infiniti anche i mondi saranno infiniti quindi il fatto che lui dica potrebbe dire uno straussiano il fatto che lo dice potrebbero esserci più mondi ma non ci sono perché le sacre scritture ci dicono questo e come dire da acqua al mulino della lettura ateistica di gassandi non lo può dire ma lo vorrebbe tanto dire ora e qui vengo alla conclusione perché credo che mi restino anche pochi minuti e e qui mi avvicino anche a un altro aspetto che è il pensiero etico e è vero ci sono queste tensioni ci sono addirittura delle contraddizioni ma secondo me e questa è l'ottica forse un po personale a me piace lavorare su temi in cui si mettono insieme cose che potrebbero non combaciare appunto il diavolo e l'acqua santa questi due poli inconciliabili mi piace invece metterli risonanza uno può anche leggere queste tensioni non come segno di una dissimulazione ma al contrario che questo pensiero è particolarmente complesso particolarmente originale che nel cercare di tenere insieme due cose che non possono stare insieme si creano delle tensioni come una corda che vibra usa un'altra analogia uno suona uno strumento musicale la corda suonata dallo strumento musicale è perennemente in tensione quindi però questa tensione produce una musica che se invece la corda non fosse tesa non ci sarebbe questa musica per cui mutatis mutandis la lettura straussiana risolve tanti problemi di queste tensioni o addirittura contraddizioni ma secondo me lo rende banalizza un po cioè se è gassandi è un ateo allora a sto punto leggiamo lucrezio direttamente perché dovremmo leggere gassandi e qui concludo dicendo anche un altro aspetto che invece è il punto che io valorizzo nel capitolo finale e su cui adesso sto conducendo delle ricerche più approfondite uno deve guardare anche alla tradizione al contesto storico e oltre al pericoli come avevo detto prima dei pericoli delle persecuzioni via dicendo c'era anche un'altra tradizione viva che era quella che io chiamo del cosiddetto edonismo cristiano o epicureismo cristiano cioè prima ancora di gassandi c'erano stati dei tentativi di mettere insieme il diavolo e l'acqua santa cioè epicuro barra lucrezio e e cristo ad esempio lorenzo valla nel devolutate il terzo dialogo delle devolutate è dedicato a una trasfigurazione dell'edonismo epicureo in ottica cristiana erasmo da rotterdam nel nell'ultimo dei colloquia che anche il fatto che sia ultimo secondo me è un bell'indice che come dire il coronamento un po di tutto lo chiama provocatoriamente l'epicureo e in questo dialogo il personaggio di edonio dice a spudeo che sono due nomi parlanti l'edonista e l'integerrimo potremmo così dire gli dice guarda che tu dici spudeo tu dici cose cattivissime contro epicuro ma la sai una cosa tu sei cristiano sì credi in dio sì credi nella provvidenza sì credi nel paradiso sì e allora sei epicureo come sono epicureo è certo perché i cristiani sono i massimi epicurei possibili perché perché la condizione e torniamo all'origine di rimuovere il dolore dal corpo e dall'anima qual è il massimo che lo rimuove se uno è un cristiano è il credere nel dio in cui in una vita futura ma già in un qualche modo in un'anteprima di questa ci darà quella condizione che epicuro ci vuole aprire ma non ci può promettere perché in questa vita sono più le cose tragiche le cose brutte le cose dolorose e quindi c'è bisogno di proiettare questa fine che propone epicuro questo piacere in un altrove e quindi cristo è per dire come dire il compimento dell'epicureismo in un certo qual modo quindi e qui veramente chiudo se uno accetta che come in questa tradizione si poteva essere cristiani e contemporaneamente epicurei gassandi invece e poteva essere letto come un autore che mette insieme queste due cose il diavolo e l'acqua santa intenzione senza senza compromettere il suo cristianesimo e pensare che si può essere epicurei cristiani che verranno garantiti nella prossima vita del massimo piacere della massima beatitudine e al contempo usare comunque il buono che c'è in epicuro e lucrezio per fondare una scienza una teoria della conoscenza una vita anche morale perché poi non viene soltanto usato epicuro come scienziato quindi veramente ci sarebbe a lungo da dire e questo è anche un tema che su cui sviluppo nel quinto capitolo anche usare le concezioni epicuree delle virtù in realtà aiuta a massimizzare il piacere e la vita tra gli uomini certo anche lì va corretto ad esempio gassandi legge in ottica ciceroniana alcune tesi epicuree quindi neutralizza anche lì la apoliticità dell'epicureismo ma comunque pur sempre identifica il fine che uno vuole raggiungere nella vita associata nell'avere degli amici nell'essere giusti nel piacere e io penso di aver parlato abbastanza e troppo anzi grazie 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 grazie